Mosca è disponibile a una soluzione diplomatica, dice il ministro Di Maio in conferenza a stampa con il suo omologo Lavrov. Quest'ultimo però precisa, non arriveremo a una soluzione finché non ci sarà accordo su Nato. No all'allargamento est. E annuncia che la Russia risponderà oggi agli USA sulle questioni di sicurezza. Dopo la visita a Kiev, Luigi Di Maio è volato a Mosca per incontrare il suo omologo russo, mentre proseguono le trattative su più fronti per arrivare a una soluzione diplomatica nella crisi in Ucraina che vede la Russia da un lato e la Nato dall'altro. Il ministro Lavrov mi ha riferito che c'è tutta la disponibilità russa a trovare una soluzione diplomatica alla crisi, ha detto il ministro degli esteri in conferenza a stampa, al termine del vertice bilaterale. Deve prevalere la diplomazia, il buon senso, la strada maestra per evitare un conflitto che potrebbe generare conseguenze devastanti per l'intero continente. La pace, che allontana ogni dramma dagli effetti incontrollati, è la direttrice da continuare a seguire, è l'unica via che può condurci a una duratura stabilità. Le armi lasciano lo spazio alla diplomazia, ha aggiunto Di Maio. Il ministro però ha anche messo in chiaro, siamo però pronti a partecipare, anche se auspichiamo vivamente non sia necessario, ai meccanismi di deterrenza predisposti in coordinamento con i nostri partner europei e atlantici. L'obiettivo dell'Italia, ha proseguito Di Maio, è quello di evitare le sanzioni, che porterebbero con sé gravi conseguenze economiche per tutti. La posizione dell'Italia sulle sanzioni è nota, stiamo lavorando per un soluzione diplomatica che significa evitare ogni tipo di sanzioni. Subito la replica, durante la conferenza a stampa, del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov sul tema delle sanzioni a Mosca. Non sono applicabili se un solo paese è contrario. È un principio di solidarietà che noi chiamiamo anche di omertà, ma non credo che l'Italia abbia l'intenzione di fomentare tensioni, ha detto, sottolineando che tra i due paesi i rapporti economici e di scambio sono buoni.